buongiorno eccoci qua finalmente con la morning routine autunno 2020 se l'aspettavate e se volete anche la night routine aggiornata mi raccomando lasciate un like per questo video se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e commentate dicendomi a che ora state guardando questo morning routine allora da quando c'è kabuki nella nostra vita la mia mattina inizia molto presto perché verso le 6 45 7 inizia a praticamente fare così vicino al letto seduto e quindi fabio non lo sente io invece mi sveglio e scendo dal letto e gli vado a dare da mangiare sono continua mia volare però vedendo fabio nel letto lì così bello che dorme mi rinfilo nel letto anch'io e magari dormo per un'altra mezz'ora poi kabuki di nuovo risalta sul letto e dice ma allora vi svegliate no e quindi a quel punto verso le 8 di solito ci svegliamo dopo essermi lavata la faccia andiamo a fare colazione solitamente beviamo un tè con le fette tostate con la nocciolata però prima come sapete io bevo sempre la mia acqua calda con il miele ormai abitudine radicata e dopo aver fatto colazione abbiamo sparecchiato fabio ha fatto la lavastoviglie sapete che è il suo compito preferito lasciate un like così si fomenta la fa sempre e poi siamo andati a rifare il letto e sono andata a lavarmi i denti e mi sono rimessa il mio apparecchio ormai sono agli sgoccioli e sto quasi per finire il trattamento poi mi sono infilata in doccia tutte le mattine faccio la doccia e i capelli non li lavo tutte le mattine di solito ogni due tre giorni e finita la doccia sono andata a vestirmi solitamente quando sono in casa mi uso un pantalone un leggins o un insomma un jeans comodo e sopra una felpa poi sono andata a farmi una maschera viso ogni giorno scelgo la maschera più adatta alle esigenze della mia pelle ad esempio quel giorno mi vedevo un po la pelle con qualche rughettina ho detto andiamo a levigare quindi ho preso la maschera levigante la bava di lumaca di royal beauty e l'ho applicata su tutto il viso e l'ho lasciata agire per 15 minuti nel frattempo sono andata a sistemare la zona dove solitamente faccio video perché il giorno prima avevo registrato e quindi c'era un po macello e poi sono andata a spazzolarmi i capelli e ad asciugarli una volta passati dieci minuti ho sciacquato la maschera dal viso subito la pelle si percepisce molto molto più morbida si vede più levigata quindi molto buona questa maschera e sono andata applicare il siero viso questa volta però ho usato un siero viso purificante questo è un siero sempre di royal beauty che va a minimizzare i pori dilatati e siccome io ho un po questa problematica mi piace usare prodotti di questo tipo poi ho messo un fondotinta leggerissimo giusto per avere un pochino la base più uniforme e poi questa maxi terra anche questa royal beauty mi ricorda tanto una terra che aveva la mia mamma quando ero piccola che non finiva mai perché veramente veramente maxi come questa era e c'è anche il pennello nel kit come avete visto ho un sacco di prodotti royal beauty in questo video infatti ho collaborato con questo brand per farvi una super sorpresa vi spiego tutto nel primo commento in info box quindi andate a vedere e come vedete di royal beauty non ci sono solo prodotti skin care ma anche tanti accessori prodotti makeup ad esempio realizzato un makeup occhi super facile e veloce con la palette iconic nude c'è anche la palette iconic rose se vi piacciono i toni più freddi e ho praticamente usato solo tre ombretti ho messo nella piega palpebrale un ombretto nude nella palpebra mobile questo ombretto metallizzato dorato veramente bellissimo super pigmentato e nella rimacigliare inferiore angolo esterno ombretto marrone più scuro tre ombretti ma subito un look comunque d'effetto poi ho piegato le ciglia col piegaciglia e messo il mascara come avete visto tenuti capelli legati dopo averli asciugati perché se li leggo subito dopo averli asciugati appena li sciolgo mi diventano mossi super mossi direi infatti quando li ho così mossi vado a fare solitamente un semi raccolto quindi raccolgo la parte frontale dei capelli e vado a legarla con un elastico se un elastico carino tanto meglio così insomma vado a arricchire anche la mia conciatura infatti ho usato questo elastico con le perline poi la mia mattina è proseguita facendo un po di pulizie per la casa quindi qua stavo passando l'aspirapolvere e poi come sempre davanti al computer io passo praticamente penso forse 10 ore della mia giornata davanti al computer e le restanti davanti alla fotocamera quindi insomma questo è però mi sono accorta verso mezzogiorno che non c'era molto da mangiare e quindi sono andata a far la spesa ho messo la mia mascherina igienizzante mani in borsa e la mia mattinata è finita così insomma al supermercato quindi spero che questo video questa morning routine vi sia piaciuta mi raccomando andate in info box nel primo commento per scoprire la sorpresa che abbiamo pensato per voi io vi mando un super mega bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao